Secondo me così non era ciò Allora ti sei dato proprio la scalata Ciao Che piacere, me ne sei sentito nominare Secondo è che sei messo Sei messo perché arrampichi tipo di 24 ore 18 le passi da arrampicare Eh, qualcuno che ti conosce, eh, bastandone Cioè Qualcuno che ti conosce, lo dì proprio Penso a salire perché devi dare i passaggi Io ho 27 anni, due catarazzi Mi hanno portato la spalla Mi metto a parlare di salute con me Esatto Deve tornare bravo in un'altra No, vai dai santuoni No, ma tanto alla fine c'è l'ecografia tu dici Ti quantifica quello che è il tuo dame Poi ti dice riposo e ghiaccio Eh E antidolorifici se hai male Tu riposo e lo fai? No E allora non fai neanche l'ecolo Risolto il problema Sono le cose salvagge Ma questo consiglio sono 40 euro Non capisco le parole che stai dicendo Le cose salvagge E poi non vengono E allora non fai neanche gli salta e gli svent i ori Anche le cose vanno Per le cose già E queste le cose Anche le cose Li C'è Ecco E E E Tommi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.